Viene servito, controllo di Pedro Cavetti, chiama palla a Muzzi, viene servito, davanti al portiere, Muzzi tiro, goooooool! Roberto Muzzi, 18esimo minuto del secondo tempo, Cagliari in vantaggio ancora con Muzzi. Stoppa Vasari, fa andare al cross, lo effetto all'interno, De Patre, parla di Pagliuca, Muzzi, gol dei Cagliari, Cagliari in vantaggio al quarto minuto, ha realizzato Roberto Muzzi. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Gole della squadra rosso-blu sul cross da destra di Vasari, colpo di testa in tuffo di De Patre. Sì, ventesimo minuto, il mio tempo!